A quale sample rate o sampling dobbiamo registrare il nostro audio? A quale frequenza di campionamento? Ciao, sono Giancarlo e oggi parliamo di sample rate, ovvero frequenza di campionamento. Cerchiamo di capire in modo il più semplice possibile di cosa significano questi termini. Prima di tutto il suono è una sensazione generata dalla vibrazione di un corpo che oscilla e si propaga in un mezzo. Questa oscillazione trasmette il movimento alle particelle vicine e queste a loro volta lo trasmettono alle particelle a loro vicine, fino a raggiungere l'orecchio dell'ascoltatore o un microfono. Possiamo rappresentare questa forma di energia graficamente con una forma d'onda come quelle che vediamo abitualmente in un programma di editing. Normalmente la forma d'onda è rappresentata come un ciclo dove il segnale segue un andamento positivo e un andamento negativo. Il suono è una grandezza analogica e una grandezza analogica varia la sua intensità in maniera continua durante lo scorrere continuo del tempo. Il suono analogico, perché possa essere rappresentato digitalmente, deve essere misurato e rappresentato attraverso il tempo. Questo viene fatto attraverso la frequenza di campionamento e la profondità di bit. La prima determina il range delle frequenze possibili, mentre la seconda descrive il range dinamico del nostro audio. La frequenza di campionamento in questo caso prende un intervallo temporale di un secondo di un segnale digitale e descrive nella propria unità di misura, ovvero in hertz, il numero di campioni presenti in quell'intervallo. Ogni singola misurazione corrisponde ad un campione. Potremmo dire che rappresenta quante fotografie facciamo alla forma d'onda nell'unità di tempo di un secondo. Più fotografie faremo e meglio riusciremo a ricostruire quella determinata forma d'onda nel tempo. Cos'è il campionamento? È una tecnica che consiste nel convertire un segnale continuo nel tempo o nello spazio in un segnale discreto, valutandone l'ampiezza a intervalli temporali o spaziali regolari. In particolare, per quel che riguarda il discorso sull'audio, consiste nel misurare e registrare il valore di un segnale analogico in diversi istanti di tempo. L'intervallo temporale di campionamento è il tempo che intercorre tra un rilevamento e l'altro. La frequenza di campionamento è il reciproco dell'intervallo temporale di campionamento. Quindi, se indichiamo con t il tempo tra una valutazione e un'altra e f come frequenza di campionamento, avremo la formula f uguale 1 su t. Un parallelo che si fa spesso per comprendere la frequenza di campionamento è quello derivata dal mondo della ripresa video, ovvero gli fps, il frame rate, cioè quanti fotogrammi vengono acquisiti al secondo, 24, 25, 60, 120. Nel video, acquisire con un frame rate elevato permette di catturare con più nitidezza azioni che si svolgono molto velocemente e, soprattutto, poterle rallentare con uno slow motion nel caso ce ne fosse bisogno. Nel cinema, il frame rate più utilizzato è il 24p, ovvero 24 frame per secondo, perché restituisce una sensazione di movimento simile a quella alla quale siamo abituati a percepire il movimento con i nostri occhi e il nostro cervello. La frequenza di campionamento più utilizzata nel mondo dell'audio si misurano in hertz o kilohertz, cioè 1000 hertz, e sono 44,1 kilohertz, 48 kilohertz, 96 kilohertz e 192 kilohertz. Perché proprio quelle frequenze? Ha a che fare col teorema di Nyquist-Shenon. La frequenza di Nyquist, o cadenza di Nyquist, è la minima frequenza necessaria per campionare un segnale analogico senza perdere informazioni e poter quindi ricostruire il segnale analogico originario. In pratica, nella conversione analogico-digitale, la minima frequenza di campionamento necessaria per evitare l'aliasing e perdita di informazioni nella successiva ricostruzione del segnale analogico-originale, quindi nel passaggio di riconversione digitale-analogico, questa deve essere maggiore del doppio della sua frequenza massima. Si esprime con questa formula. L'aliasing è la distorsione del campionamento. È in pratica il fenomeno per cui due segnali diversi, una volta campionati, possono risultare identici. Per evitare fenomeni di aliasing, quello che si utilizza durante il campionamento è in pratica un filtro passa-basso, che fa passare le frequenze al di sotto dei 22 kilohertz, tagliando quelle superiori. Se abbiamo una frequenza di campionamento più alta, avremo una maggiore accuratezza nella rappresentazione del suono. E proprio per la teoria di Nyquist, maggiore la frequenza di campionamento, più alte saranno le frequenze che potremmo registrare. Negli audio CD, che comunemente troviamo in commercio, la frequenza di campionamento utilizzata è di 44.100 hertz, ovvero abbiamo 44.100 campioni per secondo. L'orecchio umano è capace di sentire le frequenze che arrivano a 20.000 hertz o 22.000 hertz, e ciò dipende anche dall'età e dal sesso. Ora, per il teorema esposto precedentemente, se raddoppiamo queste frequenze, ecco che avremo quel famoso 44.1 kilohertz. Nel campo televisivo, filmico o DVD, lo standard è quello di 48 kilohertz, frequenza che può catturare con più accuratezza le alte frequenze rispetto allo standard dell'audio CD a 44.1 kilohertz. I 48 kilohertz derivano dall'audizione sul finire degli anni 70 delle videocassette come supporto sul quale registrare l'audio digitale, come fosse una sorta di pseudo-video, codificandolo con un segnale video bianco e nero binario. Quella adottata era la modulazione a impulsi codificata, PCM in inglese, Pulse Code Modulation, un metodo di rappresentazione digitale di un segnale analogico. In un flusso PCM, l'ampiezza del segnale analogico viene campionata regolarmente ad intervalli uniformi e ciascun campione viene quantizzato al valore più vicino entro un intervallo di step digitali. Venivano utilizzati all'epoca i registratori U-Matic con cassette da tre quarti di pollice lanciati da Sony nel 1971. Quelle che nella versione migliorata all'inizio degli anni 80 voluta da diversi broadcaster, tra cui la RAI in particolare, i famosi B-View, al giorno d'oggi ci fanno a volte dannare quando le dobbiamo riversare su altri tipi di supporti più moderni. Gli standard principali all'epoca nella trasmissione video erano quello americano-giapponese NTSC a 525 linee a 60 Hz e quello europeo PAL a 625 linee di più ma a 50 Hz. La storia è lunga e anche un pochino complicata. Comunque basta dire che in Europa si passò dai 32 kHz ai 48 kHz e lo standard NTSC seguì la via europea che si era affermata. I 48 kHz sono compatibili con le frequenze di campionamento precedentemente utilizzate e compatibili con i frame rate video in uso quindi 24 fps, 25, 23, 9, 76. Possiamo sentire e percepire questa differenza tra 44 e 1 kHz e 48 kHz? Sono vicini. È forse possibile quando siamo in un ambiente d'ascolto appropriato con strumentazione naturalmente di qualità, un orecchio allenato e poi la percezione varia da persona a persona come dicevo prima anche in base all'età e al sesso. Per determinare quali frequenze siamo in grado di registrare con un determinato sample rate basta dividere questo per due. Quindi con una frequenza di 96 kHz cioè 96.000 campioni al secondo possiamo, dividendo questo valore per due, registrare frequenze fino a 48 kHz e via dicendo. Ma se non siamo in grado di percepire queste frequenze perché registrarle? Considerando il fatto che registrare a frequenze più alte alla fine farà aumentare di molto il peso dei nostri file e soprattutto se abbiamo più tracce contemporaneamente su cui lavorare nel nostro programma di editing farà faticare molto di più il nostro computer? La risposta è perché dipende dall'uso che se ne vuole fare. Nel campo del sound design spesso si catturano suoni a frequenze molto alte inudibili normalmente e poi si lavora su di essi abbassandone per esempio di molto il pitch l'altezza del suono per ottenere effetti particolari nell'ambito del film è un classico. Se andiamo ad abbassare notevolmente il pitch e mancano quelle frequenze alte avremo soltanto un abbassamento delle basse. Le alte che ora diverrebbero udibili semplicemente non ci sono. Dove possibile conviene registrare con una frequenza di campionamento più elevata perché ogni processamento che si effettua sulla nostra registrazione produce un degrado e più è alta la qualità della nostra registrazione di partenza minore sarà la perdita. Lavorare in oversampling riduce inoltre il rumore di quantizzazione ed è utile per evitare l'aliasing e la distorsione di fase allentando i requisiti di prestazione del filtro anti-aliasing. Anche la registrazione musicale si fa spesso a sample rate più elevati di 44.1 kHz spesso a 96 kHz per avere tracce più dettagliate su cui intervenire. Inoltre in futuro avremo la possibilità di rimixare o rimasterizzare le nostre tracce in modo assai migliore partendo da una qualità migliore. Alcuni plugin audio poi lavorano meglio a 96 kHz ed effettuano un upsampling dei file qualora questi siano stati acquisiti con una frequenza di campionamento più bassa. Io cosa faccio? Se devo registrare dialoghi o suoni ambientali che non vanno processati aggressivamente utilizzo 48 kHz. Se ho bisogno di registrare le frequenze più elevate o devo fare editing più aggressivo utilizzo di EQ di equalizzatori riverberi filtri variazioni di pitch e time stretching allora vado sui 96 kHz. Considerate sempre che solitamente l'export si fa a 48 kHz nel mondo del broadcast video. Quindi se lavorate file audio a 96 kHz questi andranno poi esportati a 48 kHz con un downsampling. Io utilizzo Isotope per questo. Questi argomenti sono molto interessanti anche se a volte un po' ostici per la parte matematica non sempre facilmente comprensibile. Mi auguro comunque di essere stato chiaro. Vi invito ad iscrivervi al canale lasciate un like se il video vi è piaciuto condividetelo lasciate pure un commento se volete e ci vediamo alla prossima. Ciao!